Ciao ragazzi da Vittorio, parliamo ancora di Lazio Oggi, anzi aiutatemi a trovare il nome di questa nuova rubrica Lazio Notizie, Lazio Oggi, boh, ditemi voi. Prima di parlare di Lazio però voglio parlare un po' di Milan perché oggi la Gazzetta dello Sport secondo me si supera perché dice che praticamente il Milan riuscirebbe a gennaio a trovare un tesoretto di 60 milioni di euro per comprarsi i brai emoji. Adesso, finanza creativa direi al massimo ma come pensano di vendere Kessy che è fuori dal progetto al Milan che è una squadra che sta lottando per la retrocessione a 25 milioni di euro. L'hanno comprata a 40, sta facendo male, malissimo da te che è praticamente fuori squadra e lo piazzano a 25. Borini, 28 anni, ala, tersino, mediocre, 2 milioni e mezzo. Rodriguez, anche lui fuori dal progetto, 17 milioni. Ma, non lo so, forse c'è Babbo Natale che compra i giocatori del Milan a prezzi assurdi. Mi sembrano valutazioni impossibili, impossibili. Se Kessy vale 25 milioni, allora Minkoi Savic ne vale 300 perché la proporzione è quella. Kessy è fuori squadra praticamente dal Milan, non convocato domenica scorsa, non convocato e vale 25 milioni di euro. Ma, io non so, la gazzetta veramente per fare pubblicità al Milan farebbe di tutto. Secondo me, non lo so, direbbe che il fratello di Donnarumma vale 150 milioni perché veramente siamo al fantacalcio ma proprio più assurdo. Comunque, la gazzetta riesce a inventarsi il fatto che in Milan, cedendo questi tre giocatori, non 15, e tre giocatori fa 60 milioni di euro. Follia allo stato puro, però, vabbè, vogliamo dire che Ibrahim esceva al Milan e diciamocelo, inventiamoci le cavolate. Questo, ragazzi, per dirvi anche attenzione quando leggete i giornali, attenzione quando vedete i siti, attenzione quando vedete i video, eccetera, perché c'è certa gente che purtroppo non è obiettiva, non riesce ad esserlo, non riesce ad esserlo. Cassi, 25 milioni di euro, 25 milioni di euro. Capite che la gazzetta Osport, purtroppo, verso Milan e altre squadre, ha una propensione incredibile. Da adesso, quest'anno, no, il Milan era favorito per il quarto posto, stiamo vedendo come stanno andando le cose. Ma adesso torniamo a parlare di Lazio perché ci sono delle notizie importanti. Radu, ieri, ha svolto parte dell'allenamento in gruppo, per cui non è recuperato al 100%, ma è un passo verso il rientro. Dovrebbe esserci per la partita contro Sassuolo. Adesso staremo a vedere se Inzaghi cambierà qualcosa in difesa, perché abbiamo visto come domenica scorsa è stato Acerbi a slittare sulla sinistra con Luis Felipe al centro. Insomma, mi sembra che Inzaghi dietro abbia tante opportunità, tante soluzioni. Ovvio, Radu dà più garanzie sulla sinistra perché ha giocato sempre là e secondo me è quello il suo ruolo naturale, perché lui nasceva centrale di difesa, ha giocato nella Lazio per tanti anni come terzino sinistro, diciamo che il terzo di difesa a sinistra è una via di mezzo fra i due ruoli, quindi lui si trova benissimo. A Acerbi abbiamo visto che però quando attacca su quella fascia può essere molto utile sui cross, per cui staremo a vedere un po' come Inzaghi preparerà la partita contro Sassuolo. Una partita fondamentale, io lo ripeto ancora una volta, la Lazio ormai da qua in poi deve cercare di vincere tutte. Ovvio, non è possibile pensare di vincere tutte le partite, ma la Lazio deve provare a fare più punti possibili per staccarsi dalle altre squadre. Parlando di infortuni, c'è anche Marusic da valutare. Ieri c'è stato un controllo in Padella e quindi credo che Marusic settimana rientrerà in gruppo per allenarsi e per essere pronto per Sassuolo. Poi, ovvio, vedremo se sarà lui o Lazzari a partire di tolare. Abbiamo visto che di solito i due si alternano prima dell'infortunio di Marusic, però staremo a vedere perché ovviamente adesso il campionato ha la priorità perché l'Europa League, la Lazio, deve sperare in un mezzo miracolo per qualificarsi. Come detto, sorprendentemente, sono a Formello sia Luiz Alberto che il Tucu Correa. Tucu Correa che, ragazzi, è il giocatore che nelle ultime partite ha segnato di più, eppure nell'Argentina, Scaloni, questa volta non l'ha convocato. Meglio, meglio per la Lazio perché comunque è un viaggio intercontinentale, arriva sempre in ritardo, non sai mai in che condizioni è. Invece, avere due giocatori così importanti a Formello è sicuramente una cosa molto, molto positiva per Simone Inzaghi. Come sarà positiva? Secondo me anche per gente come Lukaku, che l'abbiamo visto entrare contro la Fiorentina e poi praticamente non giocare più. Secondo me sarà importante per Inzaghi valutare le condizioni di Lukaku perché su quella fascia potrebbe essere giunta la sua ora, visto che Lulic, l'abbiamo visto anche contro Lecce, far fatica a mettere dentro il pallone. Johnny contro Celtic ha deluso un'altra volta e quindi Inzaghi là potrebbe essere richiesto, essere costretto a lanciare Lukaku dal primo minuto. Un paio di altre notizie. Acerbi ha parlato dalla Nazionale, ha detto che Immobile, se continua così, merita il pallone d'oro, che la Lazio è con diritto al terzo posto in Serie A e che ovviamente l'obiettivo è quello che la squadra deve continuare a giocare così. È bello vedere Acerbi in Nazionale. Io ripeto, secondo me, nell'ultimo anno e mezzo è stato, se non il migliore difensore italiano, uno dei migliori, anche perché stiamo vedendo che Romagnoli è in grande crisi. Adesso sono criticatissimo anche nell'ambiente Milan. Bonucci si è un po' ripreso quest'anno, Chiellini è fuori, per cui ragazzi io veramente scrivetemi nei miei commenti chi secondo voi è più forte difensore italiano al momento più che Acerbi. Perché secondo me è vero, contro Celtic ha sbagliato, ma ragazzi, sbagliare umano, un errore, capita a tutti. Direi che a parte quello Acerbi non ha più sbagliato nulla. In Nazionale c'è anche Thomas Stracoscia, che ha parlato un po' del suo momento, ha detto che, insomma, non è un pararigori ma spera di diventarlo, del resto Stracoscia sta migliorando tantissimo anche in questo fondamentale, che purtroppo con il nuovo regolamento Elvar, insomma, il numero di rigori concessi sta aumentando in modo vistoso, soprattutto per falli di mano. Direi che ogni domenica c'è almeno uno o due episodi da calcio di rigore per ogni partita, e col VAR spesso si va alla massima punizione, quindi avere un portiere che parla a rigori in questo momento del campionato, del mondo calcio, è fondamentale, perché ci sono tantissimi, tantissimi rigori concessi. Parliamo un po' anche di tribunali, perché Vladimir Petkovic, ve lo ricorderete sicuramente tutti, ha vinto in primo appello la causa contro Claudio Lotito. Vi ricorderete che la Lazio aveva esonerato, anzi, licenziato per giusta causa Vladimir Petkovic, la causa era che, il motivo del licenziamento per giusta causa, era che l'allenatore si era accordato, ha firmato un contratto con la Nazionale Svizzera, quando era ancora allenatore della Lazio, senza avvertire il presidente Claudio Lotito. Per questo Lotito lo avrebbe licenziato per giusta causa, e non gli avrebbe ovviamente pagato il resto dello stipendio, da gennaio fino a giugno. Petkovic ha fatto causa, ha vinto in prima stanza. La Lazio dovrà pagare 460 mila euro, che è il resto dello stipendio non pagato a Petkovic. C'è da dire una cosa importante, ragazzi, perché Petkovic ha chiesto anche un milione, qualcosa più di un milione per danni morali, e il tribunale invece ha respinto. C'è da sottolineare una cosa, correggetemi se sbaglio, ma ogni volta che la Lazio va in tribunale, perde la causa. Da quando c'è l'avvocato gentile, non so se coincidenze, o avvocati non in grado, non ve lo saprei dire, ma con Zara te la Lazio ha perso, con Petkovic ha perso, con Pandem ha perso, insomma, tutte le cause della Lazio finite in tribunale sono andate male, e questo non è un bel segnale per la Lazio. Detto questo, credo che possiamo chiudere qua l'appuntamento di oggi, e io vi aspetto domani. Venerdì non facciamo la live, perché direi che non c'è bisogno per adesso. Ciao, alla prossima. Grazie.